mi hanno detto che uno youtuber quando deve parlare al proprio pubblico deve guardare nell'obiettivo e non sullo schermo perché se guarda lo schermo lo sguardo è basso va bene comunque questo è un video un po così sta impazzando un po in queste ultime ore credo da ieri sera se non sbaglio una polemica che è montata un po tra penso in maniera univoca alla fine tra la youtuber lilly meraviglia che è una ragazza insomma dai rossi capelli che può essere anche simpatica cioè il suo personaggio è un personaggio un po strambo ma se uno va a vedere i suoi vecchi video si capisce che è un po caricaturato un po come si può dire un po preparato ecco insomma per intrattenere anche il proprio pubblico insomma i propri aficionados poi abbiamo dorian b che è un altro personaggio che però invece di proporre un personaggio suo personale è un trasformista e si diverte molto spesso a fare parodie oppure per esempio molto famosi sono le sue serie su cristina e luca oppure valentina e federico storie di cacca e amore che io ho seguito con molto divertimento perché sono quelle storie tratte da presunte vere conversazioni whatsapp tra coppie diciamo che dorian a me sta simpatico però anche se lui premette sempre all'inizio del video che si tratta di una parodia quindi non è un'offesa diretta diciamo che ci va giù pesantino con gli insulti che vaffanculo testa di cazzo queste cose qua non andrebbe bene però è il suo spettacolo e se non si fanno sentire le dirette persone interessate come è successo appunto in questo caso tra lili meraviglia e dorian b diciamo che lui fa il suo canale il suo programma e le sue il suo stile insomma e lei fa il suo lui è un parodiante se è il termine giusto adesso non lo so lili meraviglia è una youtuber che è impostato molto sulla propria personalità e anche sul proprio personaggio sta di fatto che dorian b ha fatto una parodia su lili meraviglia e nonostante lili meraviglia fosse stata parodiata anche da altri youtuber non gli è andata giù non so se questo sia dipeso dal fatto che dorian b ha un discreto successo c'è un consistente numero di iscritti e anche di visualizzazioni qua c'è il gatto e lo lasciamo andare fuori vai 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 quindi potrebbe anche essere che lei ha detto ma io monto un po questo questa polemica questo faccio finta di prendermela perché alla fine se guardate il video non mi sembra ci siano state offese insulti però potrei anche sbagliarmi dovrei rivederlo un attimo con più devo sempre guardare l'obiettivo con più attenzione con più attenzione sta di fatto che lei ha fatto un video di risposta alla parodia di dorian b e ovviamente tutti i suoi fan sono andati a un po rompere le scatole sulla sulla pagina insomma del video di dorian b come succede spesso quando un youtuber si sente attaccato fa la sua esternazione video e quindi tutti i suoi fedeli vanno a mazziare chi ha fatto qualcosa che non andava bene secondo loro già questo video è un po così insomma perché non è questo un vero problema ne ho parlato perché oggi sono stato porca miseria oh mi incanto oggi eh sono stato coinvolto nella discussione perché appunto avevo espresso un mio pensiero sul fatto che lilly meraviglia è un personaggio tra virgolette pubblico nell'ambito ovviamente web nell'ambito di youtube e che quindi deve prendersi anche le proprie responsabilità su quello che dice quello che fa come anche dorian b deve prendersi le sue responsabilità riguardo le parodie che fa se sono troppo pesanti e sono come si può dire ricche di parolacce insulti rivolte alla persona anche se è una parodia comunque gli insulti li stai facendo insomma no non il caso di lilly meraviglia in ogni caso io spero che questa tutta questa questo polverone si sciolga fretta e spero che dorian b e lilly meraviglia facciano pace anche se magari si staranno sul cazzo vi saluto vi invito sempre a seguire il mio canale non ci sono parodie ci sono recensioni un po soporifere oppure adesso è partita una miniserie una rubrica che si intitola spasso col cugino dove io e mio cugino andiamo a fare dei video un po di denuncia di segnalazione di cose che ci sono appunto nella nella mia città io abito a padova e spero insomma possa insomma piacere questo genere di video io poi non mi fisso su un unico su un'unica tipologia di video mi piace molto variare sto ancora cercando un po il mio linguaggio il mio stile personale però anche in futuro parlerò e tratterò argomenti molto vari dalla musica al disegno all'attualità ai disservizi un po di tutto insomma questo video è stato fin troppo lungo vi saluto vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti